Benvenuti alla Rassegna Stampa, oggi è il 30 aprile 2020, siamo arrivati alla fine di questo mese, il mese di aprile è un mese che ci ha tenuto in ansia sicuramente ma con più speranza rispetto a marzo che possiamo definire il mese sicuramente più nero, ma con speranza iniziamo questa nuova giornata informativa e lo facciamo dando uno sguardo anche al santo di oggi al quale chiediamo tutta la protezione Sampio V, Papa, il sole è sorto alle 6, tramonterà alle 8 e 10 di questa sera, alle 20 e 10, il tempo sarà tutto sommato tranquillo con qualche nuvola qua e là, ma insomma niente di che, ancora un po' di vento lungo la costa con l'aumento durante la serata e raffiche fino a vento forte o burrasca lungo la costa, quindi attenzione nella notte soprattutto per chi ha già cominciato a mettere fuori i fiori sui balconi, sui terrazzi Allora, venerdì, domani, primo maggio, come sarà questa giornata che siamo costretti a passare in casa perché siamo ancora in quarantena, lo ricordiamo, avremo pioggia che inizierà nella notte e nella prima parte di domani mattina e mattinata, rovesci sparsi più probabili nelle zone interne e nei settori settentrionali della regione come vedete, su tutta la catena penninica, poi però l'unica provincia che vedrà la pioggia sulla costa è quella pesarese ancora venti che soffieranno domani, burrasca forte o tempesta nelle zone alto, collinare e montane mentre nei settori collinari e costieri meridionali saranno invece di brezza teso o vento moderato La giornata del 2 di maggio si apre con temporali soprattutto al mattino, una giornata con rovesci sparsi nei settori interni ma qualche sconfinamento anche verso la costa anconetana Ancora venti che soffieranno nei settori alto, collinari e montani e nel pomeriggio ruoteranno da ovest e diminuiranno di intensità Una lieve instabilità pomeridiana secondo il bollettino della protezione civile delle marche anche per la giornata di domenica Tempo stabile invece lunedì con possibile peggioramento per le giornate di martedì e mercoledì Allora, a livello nazionale si è scontro tra le regioni che spingono, incalzano il Premier Conte per una ripartenza e le regioni Lo scontro è appunto sulle date, sugli step Abbiamo visto, sono tre in particolare, il 4, il 18 e il 1 di giugno Però molti vogliono ripartire in fretta La Regione Marche, la Regione Marche sta facendo il suo percorso Anzi, ieri Ceriscioli si è portata a casa una rivincita tutta sua, tutta personale Perché in collegamento con il Ministro Boccia, lo ricorderete, all'inizio Boccia fu minaccioso nei confronti della Regione Addirittura del Governatore con la sua fuga in avanti Che insomma voleva portare persino di fronte al Tarra Ebbene, che cosa ha detto Boccia? Ha detto probabilmente che si sta studiando un ospedale Covid per ogni Regione Dovrebbe essere obbligatorio in ogni Regione Questa è la linea che vorrebbe prendere il Governo E le Marche, anche in questo caso, sono e hanno fatto tutto in anticipo Perché noi lo stiamo costruendo a Civitanova Marche E allora, ecco i giornali Cominciamo dal Corriere Adriatico Questa è l'edizione di Pesaro In spiaggia dal 4, ovviamente 4 maggio C'è l'ordinanza Ceriscioli tira dritto, pronto il provvedimento Forse già oggi Avanti i percorsi anche per aprire bar, ristoranti e parrucchieri Poi la rivelazione pro Civitanova Speranza ha deciso a chiedere per decreto un Covid hospital ad ogni Regione E poi la ripartenza con questa foto a centro pagina La nuova mobilità nel segno della bici La nuova mobilità sarà per tenersi anche a distanza Pesaro può contare sulla bici politana Gli ambientalisti invitano però alla prudenza Mentre ieri c'è stata la protesta in tutta Italia dei ristoratori Che hanno consegnato chiavi ai sindaci In questo caso la protesta di Pesaro con 400 chiavi Poi vedremo Fano 150 più o meno E poi qua di spalla invece i 4 moschettiere a proposito di ristorazione 4 chef stellati Vi raccontiamo come cambierà il nostro lavoro Sotto invece è la Confindustria sempre di Pesaro Chiede showroom aperte oppure sarà tutto inutile Nel senso sarà inutile produrre quando i negozi poi sono chiusi A Gabicio i sindaci di confine deroga per farci vedere i nostri cari E poi a Monte Grimano Comune dispone dei test sierologici per gli abitanti A Fano caserma dei vigili del fuoco Bando per una sede nuova e soprattutto innovativa La foto a centro pagina del resto del carino di Pesaro La protesta è servita a ristoratori Simbolica consegna delle chiavi Ora servono gli aiuti E poi dai centri estivi all'assistenza la strategia per ricominciare E si parla di servizi, chiaramente servizi sociali Spiagge sia alle passeggiate E poi da lunedì si torna sull'arenile Ma non si può fare il bagno E per la stagione balneare la bozza delle regole Ombrelloni a 5 metri di distanza l'uno dall'altro E niente sport Paura invece dietro le sbarre appesero due casi sospetti Allarme nel carcere di Villa Fastigi E sulle case di riposo tamponi a tappeto Ma non in tutte A scuola invece la scuola al via il 17 giugno L'esame di maturità Ecco come sarà Lo racconta il Carlino sulle pagine nazionali La svolta per le forze dell'ordine Finalmente arrivano i test sierologici Poi a Fano la TOSAP La tassa sull'occupazione del suolo pubblico restituita Mentre la Tari sarà rimodulata L'assessore Cuccherini parla delle misure Da 300 mila euro per le imprese locali Per l'aiuto alle famiglie Babysitter caccia al bonus È un'odissea La protesta è impossibile contattare l'Inps Ecco le regole per accedere al contributo Dal picco al minimo il mese che ha salvato i nostri ospedali covid Dicevamo aprile sicuramente un mese difficile Ma è il mese della speranza rispetto a marzo Dove invece siamo piombati dall'inizio del mese Poi in un tunnel praticamente buio Aprile invece possiamo dire che siamo passati dal picco Al minimo e questo mese insomma le cose stanno andando molto meglio I ricoverati sono 692 Il 29 marzo erano 1168 In rianimazione liberi due posti su tre Quasi 2000 tra dimessi e guariti Ma i morti, ieri altri 7, hanno superato i 900 Quasi tutte donne le vittime registrate nell'ultimo bollettino Ieri 35 nuovi casi positivi Una crescita dello 0,6% Però inferiore alla media Boccia apre e Ceriscioli se la ride Anticipare avevo ragione io Spiagge dal 4 pronta l'ordinanza Il ministro autorizza le ripartenze regionali dal 18 Se le condizioni lo consentono ovviamente Speranza invece deciso a chiedere per decreto Un covid hospital ad ogni governatore All'inizio ho detto, forse credo di aver sbagliato il nome Ho parlato di Boccia Con il quale ieri ha avuto certamente la videoconferenza Insieme agli altri governatori italiani Ha parlato di aperture smodulate A partire dal 18 di maggio per tutte le regioni Poi però è Speranza giustamente Che ha chiesto, chiederà forse Per il ministro della salute Chiederà ad ogni regione un covid hospital E la domanda del giornalista Andrea Taffi Del Corriere Adriatico a Ceriscioli Se prova orgoglio Ceriscioli risponde No, sono contento Ammette il governatore Perché le parole di Boccia rendono ancora più utile Il lavoro che stiamo svolgendo in questi giorni E ci indicano che la direzione Quella presa è corretta Lo stesso Boccia che all'inizio del coronavirus L'aveva bollato Ceriscioli come irresponsabile E addirittura portato davanti Al Tribunale Amministrativo Regionale I numeri ci dicono che ci sono le condizioni Per aprire con giudizio Dice ancora il governatore All'interno di un sistema però preciso di regole Oggi è prevista intanto una riunione tra la CNA E un'altra associazione di categoria L'Ufficio Igiene della Regione Coordinata dall'assessore Emanuela Bora Intanto finisce in stand by L'apertura della data da Ceriscioli Per accorciare la riapertura Delle celebrazioni eucaristiche Le sante messe Avevo detto che avrei cercato io I vescovi marchigiani Questa mattina ho chiamato l'Arcivescovo di Pesaro Ieri Per sapere se erano disponibili a valutare Un dialogo sul punto Ma Monsignor Coccia mi ha detto Che per il momento la linea È quella della CEI nazionale L'orientamento di speranza Abbiamo già detto Sarebbe quello di obbligare per decreto Tutte le regioni ad avere un ospedale dedicato Covid Una rete di sicurezza Nel momento in cui dovessero esserci di nuovo Problemi con le ondate Cosiddette di ritorno E conclude Ceriscioli Noi con Civitanova Comunque saremmo a posto Andiamo a Pesaro e a Fano Questa è la pagina di Fano È la pagina che si occupa Della maxiprotesta Dei ristoratori fanesi Che ieri si sono recati Nel cortile del municipio In via San Francesco Vedete sotto il sindaco di Fano Massimo Seri Con le chiavi Etienne Lucarelli L'assessore La rabbia degli ristoratori Questo è il titolo Tre attività su dieci Sono a rischio Decine ieri in piazza Fermi da 60 giorni Per noi è durissima C'è anche il nodo Della Cassa Integrazione I nostri dipendenti Non hanno preso ancora un euro Simbolica dunque La consegna delle chiavi Al sindaco Oltre 150 chiavi Sul tavolo di Seri Riaprire sì Ma con regole certe Sono 150 chiavi Che parlano Ciascuna Raccontando una sua storia Ma tutte unite Dall'anelito Del ritorno Ai legittimi proprietari In un tempo Che tutti vogliono Immaginare prossimo Partecipazione sentita Superiore alle aspettative Dunque anche a Fano Dove ieri mattina 15 ristoratori In rappresentanza Di tutti gli altri Hanno consegnato Le chiavi Della loro attività Nelle mani Del sindaco Massimo Seri Dall'assessore Alle attività produttive Etienne Lucarelli Insomma una cerimonia Simbolica Il virus Il virus muta Ma adesso fa meno danni Il forum Degli infettivologi Italiani Dicono Stiamo battendo Il morbo Con il distanziamento Con l'igiene E un trattamento Sanitario Tempestivo Questo coronavirus Va incontro A delle mutazioni Frequenti E' meno aggressivo Ma sono le misure Di distanziamento E l'igiene A fare la differenza Rallentando Il ritmo Dei contagi E riducendo La circolazione Del virus Come pure La combinazione Di trattamenti Tempestivi Trattamenti Sono i farmaci In attesa Ovviamente Di un farmaco Specifico E del E del vaccino Parlano Gli esperti Parlano gli esperti Che dicono In sostanza Che Per come ci siamo Comportati Per come gli italiani Hanno reagito Dopo una prima fase Un po' così così Poi hanno capito Che con questo virus Non ci si scherza E allora Queste 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 cose Insomma Che Questi atteggiamenti Prudenti Che gli italiani Hanno messo in campo Con la quarantena E quant'altro Stanno dando E hanno dato I giusti risultati Adesso Ovviamente La paura Il timore È che alla riapertura Insomma Possano esserci Queste ondate Cosiddetto di ritorno Non è un'influenza Il DNA Di SARS-CoV-2 Cambia aspetto Ma non Come avviene Per altri virus Stagionali Le medicine E i dispositivi Sono cure risolutive Le cure risolutive Ancora Non ci sono Per le terapie Servono altri studi Altre certezze Intanto Il contagio È gestibile Dice anche Zanon Promatore Della conferenza Terapia Covid-19 Sarà un'estate Secondo lui Serena Le informazioni Che arrivano Dai medici Che stanno lottando In tutto il mondo Mostrano Che si riesce A bloccare L'infezione Nella fase iniziale Se si riesce Se si riesce Soprattutto All'inizio Nella primissima parte È quasi certamente Benigno Addirittura Si può attraversare Questa fase Senza sintomi E senza conseguenze Però Come dice Claudio Zanon Appunto Direttore scientifico Di motore sanità È importante Arrivare in tempo Prenderlo in tempo Cosa che purtroppo Non è successo Per i primi contagi All'inizio Del mese Fine febbraio Inizio marzo Quando Anche La sanità I medici Non sapevano Esattamente Che cosa fare Hanno fatto Tanti esperimenti Sul campo Ma senza Senza avere Una linea precisa Adesso A distanza Di qualche settimana Certamente Anche perché Tutto il mondo Scientifico Inteso come Esperti Di tutto il mondo Davvero Hanno condiviso Informazioni utili E per cui Si è arrivati Molto più in fretta A capire Meglio Come aggredire Questo virus E adesso Basterebbe appunto Prenderlo per tempo Per far sì Che poi Come dice appunto Zanon Diventi certamente Benigno Addirittura Si possa attraversare La fase poi Del decorso In sicurezza Senza sintomi E senza grosse Conseguenze È un interessante Articolo Quello di questa mattina Si parla Per esempio Vabbè I comportamenti Questo ormai È un mantra Rispettando le indicazioni Possiamo tornare A una vita normale I bambini In qualche modo Devono essere Preservati Affinché Non siano vittime Di questa situazione Perché Situazione Intesa come Di chiusura totale I genitori Devono tornare al lavoro Bisogna inventarsi Una situazione Di aiuto Alle famiglie Attraverso degli asili Aziendali Per esempio Il volontariato Che comunque Può sempre dare Può sempre dare Una mano Occorre però Dice ancora Zanon Che la gente Torni a vivere A respirare All'aria aperta A lavorare Rispettando Il distanziamento sociale Per rilanciare il paese Come un nuovo piano Marshall E poi Quali sono i presupposti La domanda di Alessandro Malpelo Del resto del Carlino Quali sono i presupposti Per un'estate di relax Al mare o in montagna O sarà una stagione Da dimenticare La risposta è questa I presupposti ci sono Stiamo imparando A gestire meglio La cura E stiamo imparando A gestire meglio Una vita Rispettando i contatti sociali C'è una educazione Che deve permeare I nostri comportamenti Vedete adesso La parola fondamentale Sulla quale dobbiamo Tutti convincerci È questa Educazione Cioè Dobbiamo educarci Ad avere rispetto Per noi stessi E per gli altri A fare Dal momento in cui Potremmo uscire di casa Un po' come quando Ci si chiedeva Almeno da bambini Una volta Di uscire dalla scuola O di entrare In fila Una alla volta Oppure due a due Capito Mantenendo le distanze Ma ordinatamente Quindi Questo è l'aspetto Importante Sarà l'educazione Cioè sapere bene Esattamente Quello che dobbiamo fare Per non far Star male gli altri E per star bene Ovviamente Anche noi stessi E adesso La pagina Sempre del resto Del Carlino Dove parla Questo futurologo Che vedete qui In questa fotografia Che compie A 93 anni Roberto Roberto Vacca Dice Viviamo immersi In paure Contagiose L'unico Antidoto È la curiosità Ma ci arriveremo Niente apocalisse L'epidemia Finirà da sé Il futurologo Che 50 anni fa Previde Il medioevo Prossimo venturo Dice Allora sbagliai tutto Oggi dico Il covid Non è Invincibile Il covid Sembra quasi Invincibile E lui risponde No Non è così Anzi Recentemente È andata peggio L'asiatica Del 1957 Risponde Di origine aviaria Fece 30.000 morti In Italia 116.000 negli Stati Uniti E 1.200.000 Nel mondo 30.000 Noi siamo a 25.000 Mi pare Con il covid Erano altri tempi Altre cognizioni Chiusero le scuole Ma non I luoghi di lavoro E contatti Fra le persone Non ebbero Limitazioni L'epidemia Poi si spense Praticamente Da sé I virologi Sembrano andare Andare a tentoni Ognuno dice E si contraddice Anche questo è vero È deluso Dalla risposta Della scienza Sentite cosa risponde Più i sistemi Sono complessi E oggi lo sono Più è difficile Governarli E allora Bisogna fare Una cernita Io non sono Uno scienziato Ma so distinguere Quelli autentici Cioè i virologi Quelli che sono Nei laboratori A testa bassa Con umiltà Da chi invece Fa le passerelle In tv I ricercatori seri Non hanno Formule magiche O verità In tasca Vanno avanti Per tentativi Anche empiricamente Con abnegazione E modestia Da loro mi aspetto Presto poi Delle risposte Concrete Anche se capisco Le difficoltà Per esempio A quali domande Le domande sono queste Quelle che ci facciamo noi Come funziona il virus Se è soggetto Se è soggetto a differenze Di temperature Quale sarà la reazione Della gente A una prima apertura Sono tanti I fattori Da mettere insieme Alla domanda Quale sarà La reazione Della gente Ci hanno ripetuto Fino alla noia Di lavarci le mani Spesso Ma nessuno ha detto Di usare L'acqua L'acqua calda A 17 gradi Il virus Per esempio Non resiste E quindi La temperatura estiva Sarà un alleato Importante Infatti Tutte le volte Che ci dicono Lavatevi le mani Però nessuno dice Lavatevi le mani Con l'acqua calda E questo è importante È un dato importante Anche negli spot Nei promo Si è sempre detto Lavatevi le mani Lavatevi le mani Però Se più l'acqua è calda Meglio è Perché comunque Questo virus Muore Con l'acqua calda E ancora Ecco Chiudo con questo Con questo 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 pezzo Lei È Esemplare In questo senso Abita sull'Aventino Ma scende in campo Quotidianamente Sul web E sui media Cito le sue Prerogative Ingegnere Scrittore di romanzi Saggista Matematico Divulgatore Poliglotta Sentite quante cose È Traduttore Poeta Vernacolare Romanesco Come fa? Lui risponde Ho 93 anni E la vita Mi diverte abbastanza La quarantena Non mi tocca In casa Ho 8000 libri Alleno la mente E mangio pochissimo Per tenermi in forma Allora Andiamo a vedere Invece adesso Torniamo sul Corea Adriatico Perché il problema Il problema Sono sì Le ripartenze Dei servizi Come i ristoranti Parrucchieri L'estetista Eccetera Però c'è anche Un altro Spaccato Un altro settore Della società Civile Che deve ripartire E che è fondamentale Sono i servizi Quelli legati Ai servizi sociali Che in questo momento Sono un po' Nel limbo E allora C'è un piano Per la ripartenza Anche se sarà Scaglionato E parliamo Per esempio Dei centri diurni L'assistenza educativa Domiciliare Scolastica I servizi Di assistenza Domiciliare Per disabili Adulti I servizi Di trasporto Socioassistenziali Laboratori occupazionali Poi tutta la parte Dell'area anziani Quindi centri diurni Per autosufficienti Oppure con Alzheimer Servizi di assistenza Domiciliare Il servizio civile Di volontariato Ma poi anche altri Quelli per la salute mentale Per gli adulti In difficoltà Tutta l'area dei minori I centri estivi Per esempio Quando ricominceranno A lavorare Un po' Tutti quanti I genitori Anche durante l'estate Come e dove Mandare Spesso Si usano I centri estivi Appunto Per far giocare I ragazzi Per far giocare I bambini Ma tutto questo Deve ripartire Chiaramente È una riapertura Anche questa Tanto urgente Ma è anche Quanto difficile Da organizzare La Regione Con i sindaci Parlano Insomma Di riaprirli Certamente Ma È un po' Tutto in sospeso Perché Insomma Non si capisce Ancora bene In che modo E quindi Bisognerà Lavorare Sodo Per esempio Tra le dichiarazioni Registriamo Quelle di Valeria Mancinelli Che è il sindaco Di Ancona Ci vogliono proposte Sere e concrete Siamo tutti al lavoro Il sindaco Di Macerata Servono risorse Per garantire La qualità Con le nuove norme Il sindaco Di Fermo Sicurezza massima Per utenti Operatori Con un protocollo Vedete Sono i mesi Dei protocolli Tutto Tutto dovrà Essere Come dire Organizzato Alla perfezione Non ci si può distrarre Ecco perché Dicevo prima L'educazione Dobbiamo educarci A rispettare Ancora di più Le regole E le regole Dove sono scritte Non nelle leggi Che abitualmente Gli italiani Se possono Cercano anche Di fregare Qualche volta Perché sono tante Perché sono Sono complicate Spesso anche Fatte un po' così Ma Questa volta Dobbiamo fare le cose In maniera seria Con questi protocolli Il sindaco di Ascoli Dice La chiusura Dei centri diurni E di assistenza Ha creato Tanti disagi Allora Passeggiate sì Dice Ceriscioli Sul resto del Carlino Ma niente bagno al mare Su estetisti Invece parrucchieri Ci provo Ceriscioli Dopo il summit Con il governo Dice in arrivo Un'ordinanza Forse oggi Per tornare Sull'arenile Il 4 maggio E sulle attività Legate alla bellezza Quindi il discorso Delle estetiste Parrucchieri E quant'altro Il progetto pilota Parla ancora Di quel progetto pilota Per farle riaprire Prima di giugno Perché sapete Che la Gli estetisti Parrucchieri E quant'altro Secondo Le ipotesi Secondo Il programma Il crono programma Del governo Di Roma Dovrebbero aprire Il primo di giugno Decisione che ha scatenato Una marea di polemiche Però Forse Con questo protocollo Se l'esperimento Andrà bene Potrebbe la regione Marche Decidere di anticipare Rivincita Su Civitanova Speranza vuole Un covid hospital In ogni regione Mentre sta per scattare Il via libera Al popolo Dei velisti E dei pescatori Anche questo È un popolo Che scalpita Che vuole tornare In mare Vuole tornare Che si sente Comunque sicuro Evidentemente In mezzo al mare Un posto più sicuro Di quello Dov'è il covid In mezzo al mare E quindi cercano Vogliono tornare Di nuovo Ad essere liberi Di navigare Essere accarezzati Dal vento E beati loro In mezzo al mare Su una bella barca E comunque Anche loro Dovrebbero Presto Perché è stata presentata Dai consiglieri Eccetera eccetera In regione Una mozione Per la ripresa Sia dell'attività nautica Che della pesca sportiva In mare E nelle acque interne Insomma quindi Bisognerà adesso Attendere Ancora un po' Poi qui parla Sempre sul Carlino Il presidente Degli industriali pesaresi Mauro Papalini Che è il proprietario Dell'omonima azienda Che si occupa di Sintetizzo pulizia Insomma Ma è una grandissima azienda Misure confuse Incoerenti Dice Papalini Così è dura Alla luce Degli ultimi provvedimenti Del governo Anche gli aiuti economici Dice Papalini Sono inutili Non si può trasformare Un'azienda industriale In una artigianale Perché poi Quello che produce Costa dieci volte di più Perché i costi fissi Restano Anche se la forza Lavoro è intorno al 10% Dice Papalini Quindi il chiaro riferimento È il settore del mobile Perché non ha alcun senso Riaprire se poi I rivenditori di mobile Al dettaglio Sono chiusi E di fatti Molte aziende Non stanno lavorando È come autorizzare La produzione delle auto E tenere chiuse Le concessionarie Cioè Quindi questo È l'esempio Semplice Ma efficace Per far capire Che insomma Le cose così come Progettate Programmate Non vanno Un granché bene Emergenza bambini Dicevamo Pronti ad aprire Anche i centri estivi L'assessore Mascherin Siamo quindi a Fano Al lavoro Per ripartire Per partire Con il servizio Appena ci sarà l'ok Servizi sociali Invece Contributi Per gli affitti E ripristino Dei centri diurni Per disabili Stiamo cercando Dice Mascherin Di simulare Una serie di scenari In modo Da partire al più presto Qualora ci sia dato Il via libera Per assicurare i bambini Sia sia la cura Di cui hanno bisogno Sia il percorso educativo L'assessore ricorda Inoltre Come già annunciato Subito dopo La chiusura delle scuole Che le famiglie Non dovranno pagare Le rette scolastiche Il servizio di refezione E di trasporto Per tutti i mesi In cui a scuola I bambini Non ci sono andati Quindi questo Che sia chiaro È venuto fuori Qualche domanda Anche l'altra sera Con il sindaco Seri qui In studio Non dovranno pagare Le rette scolastiche Nella refezione Quindi nella mensa E nel trasporto Nei mesi ovviamente In cui la scuola I bambini Non sono andati A scuola Poi sotto Assurdo Non farci lavorare Dice Barbara Marcolini Dei commercianti Presidente Di Confcommercio Di Fano Che parla Di una situazione Drammatica Per tutte le attività Che hanno abbassato Le proprie saracinesche Dal 9 di marzo Le imposte E le tasse Sono state solo rimandate Le bollette comunque arrivano Anche se il locale È chiuso In compenso Ci hanno proposto Di indebitarci ancora Fino a 25 mila euro Così da poter pagare Le tasse E i debiti Accumulati Nei mesi di chiusura Non fa una piega Non fa una piega Cioè Qui l'unica soluzione Trovata È quella di dirci Sì sì Vi diamo 25 mila euro Cioè Vi diamo Vi prestiamo 25 mila euro Poi Me li ridate Nel frattempo Al posto di dare Soldi a fondo perduto Che poi alla fine I soldi che dà lo Stato Non sono Sono semplicemente I soldi nostri Questo non dimentichiamocelo Qualcuno Quando parlo del governo Si inalbera Come se io Avessi Qualcosa contro L'attuale governo A me Ho già detto Che non interessa Di che colore è il governo Io sto soltanto dicendo Che ha trovato Questo governo Perché adesso c'è questo Come aiuto Quello di farci indebitare Di 25 mila euro E anche più Volendo In maniera semplice Non difficile In maniera semplice Con le banche Ma non avevamo bisogno Di indebitarci ancora di più Avevamo bisogno Bisogno di soldi A fondo perduto Come hanno fatto anche In altri Stati Quindi o ci pagate Le bollette O ci pagate Gli affitti Senza dovervi ridare nulla Sono soldi Che vi abbiamo già dato Con le tasse Quando potevamo lavorare E quindi Credo che non ci sia Nulla di strano In quello che dico Il primo espianto Questa è un'altra notizia Che troverete invece Sul Corriere Adriatico Il primo è spianto Multiorgano Durante l'emergenza Covid-19 Eseguito a Marche Nord Sono stati donati Reni, fegato e corne Grazie ai familiari Di un paziente Di 68 anni Protocolli di sicurezza Per rendere pulito L'intervento L'uomo è stato sottoposto A tampone Tutta la minoranza Invece a Vallefoglia Contro la fusione Ma non basta A Vallefoglia È stata bocciata La mozione Presentata dal centro-destra E votata anche Dai 5 Stelle Una mozione Che In sostanza Chiedeva Sull'argomento Sulla fusione Dunque L'ipote Ecco Sull'esclusione Di ogni ipotesi Di fusione Di Vallefoglia Con altri comuni limitrofi Compreso Quello di Pesaro Perché si parlava Anche di fondere Aveva anticipato Anche Ricci E Ucchielli Non si era buttato via Ha detto Prima bisogna fidanzarci E poi al limite Ci sposiamo Ma comunque L'ipotesi Di fondere Pesaro O meglio Vallefoglia Con il comune di Pesaro Luciana La tartaruga Ne abbiamo già parlato ieri Stessa spiaggia Stesso mare La sua storia Ha un messaggio unico Il valore Del ritorno Della tartaruga Sulla spiaggia Di Baia Flaminia Vimini Tra i progetti E le attese Nel segno Del turismo Sostenibile Poi La fotografia Di Queste auto Addirittura In tripla fila Per i tamponi Ieri è stata Una giornata Molto intensa In strada Dei cacciatori Pesaro Nel primo pomeriggio Nel primo pomeriggio C'era una lunga fila Anzi tre file Lunghe Di Automobilisti Che Appunto Tutte persone Positive Che erano Perlomeno Positive E che Sono andate a fare Il tampone Il primo O il secondo Tampone La pagina di Fano Questo è un Interessantissimo Articolo Che questa mattina Scrive Lorenzo Furlani Sul 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 giornale Sul Corriere E che riguarda Questa iniziativa Che il sindaco di Fano Con la giunta Vuole Portare avanti Per la prossima Imminente Estate Se ne era già parlato Fano Covid free Quindi come dire Venite a Fano Qui Non c'è nessun positivo E spiega molto bene Furlani Questa mattina Sul giornale È un po' Come dovrebbe avvenire Questa cosa Quali sono i pro e i contro Quali sono gli scenari E Quest'idea Che si inserisce Sulla scia Degli slogan creativi Di marketing territoriale Come quello lanciato Qualche anno fa Dal sindaco di Pesaro Che assicurava Vacanze estive Con il sole Nella sua città Impegnandosi A rimborsare le spese A chi avesse Trovato la pioggia Ma il tema Che è più delicato E scabroso Rischia di diventare La replica della campagna recente Sempre di Matteo Ricci No panico L'Italia riparte Ricorderete Che invitava i pesaresi Alle inaugurazioni pubbliche Mentre l'ospedale San Salvatore Veniva travolto Da uno dei focolai Dell'epidemia Più intensi D'Italia E c'è questa idea Quest'idea del Fano Covid free Comunicata dal sindaco Dall'assessore Lucarelli Al turismo Dopo la fase Della clausura Antivirus Ed è uno slogan Scrive Furlani In sé Impossibile E soprattutto Visto il contesto Grottesco L'annuncio È di quelli Che non temono Il ridicolo Ora io vorrei Leggervelo tutto Però non posso Perché Però è interessante Perché Spiega esattamente Il perché Insomma Non è forse Il caso E comunque Lo troverete Sulla pagina Di faro Di oggi Del Corriere Adriatico Questo è incredibile Un autogol È un incredibile Autogol Della Giunta Speriamo che Non si dia Un altro In carico Perché Nell'articolo Che Leggerete Sicuramente Sul giornale Di questa mattina A proposito Di questa iniziativa Chiaramente Dovrebbe esserci Anche L'intervento Di un esperto Che progetterà Questo protocollo Di sicurezza Per trasformare La località Di mare Di Fano In città Completamente Libera Dal coronavirus Così da permettere Sia ai cittadini Che ai turisti Che non vogliono Rinunciare le proprie vacanze Di poter venire qui Nella città Di Fano In tutta sicurezza E per farlo C'è bisogno Di un esperto Ecco perché Il Movimento 5 Stelle Dice Speriamo Che non si dia Un altro In carico Non è crisi Per tutti Però Qualche azienda Cresce Andrea Amaduzzi Sul giornale Questa mattina Parla Certamente Di quella Che è la crisi economica Che ha messo in ginocchio Gran parte Dei settori Ma c'è anche Chi C'è anche Chi Sta crescendo Eppure Eppure si Pensiamo A tutte le farmacie Pensiamo Purtroppo A tutte quelle situazioni Legate A questa tragedia Quindi le aziende A tutte le agenzie Di pompe furibri Pensiamo appunto Le farmacie Pensiamo a quelli Che fanno Che fanno Le analisi A Fano C'è solo Un laboratorio Di analisi Convenzionato Che fa I test Seriologici Poi c'è Per esempio Che sta andando Con Fievele Lo stesso L'azienda Che dicevamo Prima La Pappalini Che probabilmente Sta Che insieme Ad altre Tutte aziende Che Operano Nel settore Della bonifica Della sanificazione Degli ambienti Quindi ci sono aziende Che in questo momento Stanno lavorando E stanno Incassando tanto Buon per loro Ma ce ne so C'è tutto il resto Che invece È a rotoloni Tosap Restituita Etari Rimodulata Fano Non aspetta L'assessore Cucchiarini Anticipa Le misure Per le imprese locali Interventi Da 300.000 euro In attesa Del decreto Economia Del governo Conte Che prevede Per i comuni E le province 3 miliardi E mezzo Il comune Si è messo in moto Per aiutare Le imprese locali Attraverso la riduzione Di queste due tasse Di cui abbiamo già parlato Quella dell'occupazione pubblica E quella appunto Dei rifiuti La caserma Dei vigili del fuoco Questa è la foto Dell'obsoleta Caserma attuale Dei vigili del fuoco In via Roma A Fano Bando per la sede innovativa Le offerte Entro il 4 di giugno Costruzione improntata Al risparmio Energetico Poi una parafarmacia Che dona Presidi di protezione Alla casa di riposo Don Tonucci Questa Parafarmacia Che ha donato E ha fornito Mascherine E visiere Per quanto riguarda Invece la caserma Questo è importante L'appalto è da oltre Due milioni La struttura Verrà realizzata A Chiaruccia L'assessore Fanesi Dice La prima pietra Sarà posata In autunno Mentre Sono stati raccolti I 7500 euro Per il Santa Croce È un'iniziativa Promossa con Creval Da Confcommercio di Fano Il conto Però Verrà mantenuto Aperto Per altri 10 giorni Quindi se ancora Qualcuno vuole Aderire Urbino Rostirolla Cittadino L'orario Giancarlo Rostirolla Vedete qua Il comune ignora La proposta L'avvocato Fabi Contro la mancata Commemorazione Del conte Guido Da Montefeltro Intanto Riapre Al traffico Il ponte Amelia Ma con velocità Ancora limitata Oggi il battesimo Dell'opera Dopo i lavori Da 1 miliardo E 300 mila euro Da Raffaello a Fellini Serafini stupisce ancora Questa è l'opera L'opera del grafico Di Fermignano Marcello Serafini Dedicata al centenario Della nascita Del regista riminese Federico Fellini E poi Dalla pagina Della Valle del Cesano Fossombrone Esco solamente Per donare 139 gesti Di solidarietà Di Avis La sezione di Fossombrone Ha continuato a raccogliere In sicurezza Sangue E Plasma Mentre a Marotta Sito online Per acquisti E consegne a domicilio Promosso dalla Proloco Per appoggiare Le attività Contributo dei tedeschi Raccolta Mondolfo Di 3 mila euro Dalla città gemellata Per l'emergenza sanitaria Sale l'appello Degli ambulanti A Senigallia Fateci andare Sul lungomare La protesta Mettiamo a disposizione I guanti Ma dovete farci Lavorare Sotto A centropagina Più spazio Per pedoni E biciclette Raccolte 160 firme Online E poi il Marco Raffaelli Il ragazzo Che ha avuto Il 31enne di Marzocca Ricoverato in gravi condizioni In Indonesia Dopo un incidente Il tornerà a casa Con un volo Di stato Il giovane ferito A Bali Operato per nove ore Dovrà però Prima riprendersi E con questo Chiudiamo qui La nostra segna stampa Del giorno Grazie per averci seguito Vi auguro una buona giornata Vi ricordo Questo numero di telefono Che adesso Il nostro Riccardo Vi farà vedere Eccolo qua 338 49 68 250 Per le vostre segnalazioni Mentre alle 20 e 30 Ci vediamo per il telegiornale Con il telegiornale Occhio alla notizia Con le notizie del giorno Arrivederci Grazie a tutti